Istituto Santa Maria di Monterotondo. Il piacere di essere studente. L'Istituto di Istruzione Santa Maria è una scuola paritaria di Monterotondo, attiva fin dal 1970, e propone due indirizzi scolastici. L'Istituto Tecnico Aeronautico con Convenzione ENAC e il Liceo Linguistico per le Arti dello Spettacolo. La sede, progettata appositamente come scuola, mette a disposizione degli studenti strumenti innovativi e lavagne interattive. L'Aula Magna, dedicata al generale ingegnere Luigi Broglio, considerato il padre dell'astronautica italiana, è utilizzata spesso per convegni e incontri con professionisti del settore, grazie al supporto di un maxischermo e un sistema di diffusione audio professionale. Per le attività sportive l'Istituto si avvale della convenzione con il centro sportivo Fausto Cecconi e con la piscina coperta adiacente. L'Istituto, sempre vicino alla crescita dei propri studenti, propone inoltre, come ogni anno, viaggi di istruzione in metropoli importanti come New York, Londra, Parigi, Madrid e altre, in modo da sostenere la crescita formativa dello studente. L'Istituto Tecnico Aeronautico rappresenta la scelta migliore per chi vuole entrare a far parte del mondo dell'aeronautica civile o militare. Oltre alle classiche materie scientifiche e letterarie, ci sono discipline specifiche di navigazione aerea, meteorologia e diritto aeronautico. Gli allievi, già a partire dal biennio, usufruiscono dell'aula di simulazione di volo per esercitarsi sulle fasi di pilotaggio. Inoltre è a disposizione un hangar dove è possibile esercitarsi da vicino sulla manutenzione di un aeromobile. Gli allievi possono conseguire al termine dei cinque anni di corso, oltre al diploma di perito tecnico aeronautico, anche il brevetto di pilota civile. Ogni allievo del primo anno partecipa nell'aeroporto dell'urbe al battesimo del volo, con i propri insegnanti di navigazione. Mentre gli alunni del triennio hanno la possibilità di frequentare ore di navigazione aerea per il conseguimento della licenza di pilota civile, grazie anche a una convenzione con la scuola Aviomar. Quindi dei miei studi spero di poter diventare un pilota di linea e sono sicura, grazie a questa scuola, di poterlo fare. Ho scelto questa scuola perché vorrei diventare un pilota e questa è la migliore scuola sul territorio. Presso l'aeroporto dell'urbe, gli anni all'istituto tecnico Santa Maria sono riconosciuti dall'ENAC come corso teorico di pilota e manutentore aeronautico. L'istituto tecnico aeronautico Santa Maria offre innumerevoli possibilità di lavoro in diversi settori in continua espansione, quali pilota, controllore di volo, manutentore di velivoli, logistica aeroportuale e tanti altri. Liceo linguistico per le arti dello spettacolo dedicato ad Alberto Sordi, un'icona del cinema italiano. Inaugurato nel 2003 con la presenza del Tg2, un liceo linguistico di una cittadina vicino a Roma è stato intitolato ad Alberto Sordi, noto conoscitore di lingue. Sarà per questo che a Monterotondo hanno deciso di intitolare a lui il rinnovato liceo linguistico. Tra autorità e folla applaudente, ecco spuntare il suo bel faccione sorridente, scoprito a memoria, ad esempio perpetui, per gli studenti. Il liceo con corsi di regia, fotografia, recitazione, edizione, canto, web radio, giornalismo, si avvale della School Lab, facilmente raggiungibile con i pulmini messi a disposizione dalla scuola. La School Lab, anche con una propria web radio, è dotata di studi TV e di un laboratorio ben attrezzato con audio, video, luci e telecamere professionali. Gli studenti, una volta diplomati, trovano impiego in produzioni televisive come per il Grande Fratello, Mediaset, Sky e Rai. Gli studenti partecipano ogni anno in tutta Italia a stage formativi, realizzando foto e video con servizi giornalistici ai convegni Feelings. Come nella prestigiosa Sala Aldo Moro di Montecitorio, in occasione del convegno organizzato dal direttore dell'Istituto Santa Maria, Cavalier Professor Giovanni Piccardo, presidente nazionale Feelings, federazione che rappresenta tutte le scuole non statali in Italia. Ogni anno, gli studenti del liceo si impegnano nell'organizzazione e realizzazione di un proprio spettacolo, dove acquisiscono le competenze necessarie per affrontare la futura carriera di regista, montatore, sceneggiatore, giornalista, tecnico del suono e luci, attore e cantante. Molti dei nostri ex alunni sono oggi affermati professionisti, grazie soprattutto alla qualità dei nostri docenti. La scuola l'ho trovata molto interessante, mi è piaciuta sin dall'inizio, è un luogo molto confortevole, è piccolo, quindi mi ci sento bene, mi sento al sicuro. Ho scelto fotografia perché mi piace molto fare le foto, mi piacerebbe portare avanti questa passione. Per maggiori informazioni, rivolgersi direttamente all'Istituto in via Ticino 45 Monte Rotondo. Usufruendo anche della possibilità di frequentare alcuni giorni senza impegno come ospiti alle attività didattiche. A tale scopo, il Santa Maria consegnerà il certificato per la giustificazione delle assenze presso la scuola media. Istituto Santa Maria di Monte Rotondo. Il piacere di essere studente. Grazie a tutti.